buongiorno amici di tfc channel nel video di oggi vogliamo presentarvi un prodotto davvero straordinario nato da più di vent'anni di ricerche made in repubblica cieca molti di voi avranno già capito di cosa stiamo parlando la laugo alliance nella versione full kit in edizione rose gold la laugo allian copisce immediatamente per il suo design completamente rivoluzionario sia in termini estetici che meccanici la prima caratteristica evidente è l'asse della canna tra i più bassi in commercio che permette un rinculo estremamente lineare con pochissimo rilevamento questo permette di incrementare notevolmente la velocità quando si sparano numerosi colpi consecutivi il funzionamento meccanico che appare straordinariamente accurato e ottenuto con lavorazioni di massima precisione e materiali di altissima qualità prevede un ritardo di apertura ottenuto grazie a un parziale recupero di gas provenienti dalla canna e diretti all'interno del carrello per generare la spinta in avanti la chiusura sono metastabili e si regolano automaticamente in funzione della potenza delle munizioni questa soluzione permette di mantenere la canna fissa contribuendo alla precisione intrinseca dell'arma la versione full kit include dei particolari accessori che permettono diversi allestimenti in base all'utilizzo all'interno una valigetta nanuc marchio d'eccellenza per valigie polimeriche made in canada troverete la fondina in alluminio aeronautico completamente regolabile concepita e realizzata dalla casa madre appositamente per la alien 3 caricatori con pad in alluminio da 17 colpi la seconda bindella che permette di sostituire in pochissimi secondi senza alcun utilizzo meccanico il sistema di mira passando dalle mire regolabile al puntamento con punto rosso vi faremo vedere ora lo smontaggio dell'arma completo e il passaggio con la seconda bindella dal sistema di mire fisse al sistema di mire con red dot come prima cosa verifichiamo che l'arma sia scarica e che all'interno della camera non ci siano presenti alcuna munizione iniziamo sfilando questo perno della bindella con il pollice premiamo in avanti dall'attacca di mira e la prima parte si smonta all'interno possiamo vedere come si prima il recupero gas e la molla di ritorno smontaggio del carrello smontaggio della presa gas questa è la canna fissa è una canna da 4,8 pollici di fabbricazione lotta al walter match questa è tutta l'arma ora vi faccio rivedere il montaggio molto semplice ed ecco a voi il sistema di mira red dot montato in pochissimi secondi il nostro carico e il buon ruttimore è forte alt fascinante il nostro Speriamo che questo video vi sia piaciuto le laugo alien sono già disponibili presso i nostri magazzini e vi aspettiamo al prossimo video